buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti all'ottava puntata del tg sherwood come potete vedere oggi sono da solo senza il mio compagno di strada antonio che ci ha momentaneamente abbandonato sciocchezze a parte iniziamo la puntata è una puntata molto ricca e partiamo subito da una grande assemblea che si è svolta domenica scorsa il 17 novembre a venaus in in val di susa infatti dopo la grande due giorni che c'è stata a venezia a fine settembre in cui appunto c'è stata la prima assemblea di tutti i movimenti ambientali provenienti da tutti i territori italiani si è rilanciata questa seconda assemblea in valle sono stati 40 più di 40 i comitati territoriali che sono in che sono intervenuti all'assemblea appunto per proseguire questo percorso che è stato rilanciato da venezia contro le grandi opere e in difesa del dell'ambiente e della e della nostra della nostra salute gli argomenti che sono stati trattati i punti che sono stati centrati dalla maggior parte se non da tutti gli interventi sono stati davvero tanti gli interventi nel corso nel corso della giornata vertevano soprattutto su due argomenti quella dei cambiamenti climatici e della dell'importanza di continuare ad intraprendere di iniziare a intraprendere delle azioni appunto contro quella che è la devastazione dei territori che ormai da anni continua a essere perpetrata dai vari governi tutti gli interventi quindi hanno toccato hanno toccato questi punti sono stati davvero tanti l'indomani c'è stata anche una passeggiata al primo cancello che si trova nei pressi del del cantiere del del tav è stata un'azione simbolica si è un po tagliato diciamo così il il cancello c'è stata la polizia che ha bagnato con un non con degli idranti ma proprio con un tubo di gomma eh i manifestanti ma torniamo all'assemblea di sabato l'assemblea di sabato ha lanciato degli appuntamenti ha lanciato degli appuntamenti eh importanti il primo senza dubbio è quello che eh ci vedrà tutti quanti coinvolti l'otto dicembre l'otto dicembre infatti sarà una giornata di mobilitazione diffusa nei vari territori proprio a difesa del dell'ambiente ci sarà una grande manifestazione notav a torino ma anche in altri territori da nord a sud ci saranno dei momenti appunto di eh di mobilitazione ma parleremo meglio nel secondo blocco del eh del tg di queste di queste mobilitazioni dall'assemblea è anche emerso emersa l'importanza di proseguire per questo percorso ci sarà ehm a febbraio una una terza assemblea che verrà fatta molto probabilmente a a Napoli eh terra tra l'altro del del biocidio e terra che in in questi giorni è tornata agli onori della cronaca proprio per eh un incontro che c'è stato tra vari ministri un incontro che si è svolto a caserta e come tutti gli ultimi incontri che parlano appunto di eh spazzatura eh si è rivelata una vera e propria una vera e propria farsa infatti anche dai movimenti di stop biocidio è stato proprio definito come eh l'il vertice il vertice farsa infatti le eh il movimento 5 stelle ha dichiarato di essere contro gli incerenitori per Di Maio addirittura è roba vintage dall'altro l'altro dall'altro lato i compagni di viaggio del movimento 5 stelle nella persona di Salvini che non ha partecipato a questo incontro invece eh li eh reputa se gestiti bene un uno strumento utile perché porta salute ed economia eh vedremo cosa succederà nel territorio campano nei nelle prossime settimane nei prossimi mesi per quanto riguarda eh la l'argomento appunto dei dei rifiuti ma tornando all'assemblea la eh roba fondamentale è quella che è stata lanciata dalla dall'assemblea una mobilitazione nazionale che verrà svolta a Roma il 23 di marzo quindi da Venezia a passando per Firenze e da anche dalla valle si viene rimarcata ancora una volta l'importanza di questa grande manifestazione contro contro le grandi opere a difesa dei dei nostri territori e per anche eh difendere appunto quello che è il nostro clima il il nostro ambiente siamo ancora in tempo di fronte allo sconquasso ecologica il non fare che di fatto si traduce nel lasciare indisturbata la vecchia economia non appare come una soluzione lo squilibrio attuale talmente grave che solo una correzione in corsa può evitare il rischio catastrofe queste sono le parole di Antonio Conciullo nel eh nel suo ultimo libro che si intitola ecologia del del desiderio e sono delle parole che eh servono un po' da monito siamo ancora in tempo per salvare il nostro pianeta sì siamo ancora in tempo se eh tutti quanti dal dal basso fino alle alte cariche istituzionali davvero prendono in mano le sorti del del nostro pianeta e cambiano davvero quelle che sono le politiche e le politiche ambientali eh tre anni fa COP21 a Parigi anche se con parecchi limiti con eh con tanti limiti è riuscita a rendere eh globale una una presa di coscienza ossia quello che è lo stato di salute del del pianeta è davvero a rischio a tre anni da COP21 il adesso ci si rincontra è un altro vertice è il vertice di COP24 eh questa volta verrà si svolgerà in in Polonia che dovrà eh decidere quelle che sono le misure da attuare appunto per eh per difendere il il nostro pianeta si uscirà da questa ulteriore conferenza sul clima sull'ambiente con delle eh soluzioni reali delle soluzioni che davvero possono salvare il clima questo qui noi non non lo sappiamo ehm l'aspetto fondamentale è che eh i cambiamenti climatici stanno avvenendo i cambiamenti climatici portano morti portano distruzione dell'economia e portano anche immigrazioni l'abbiamo visto nei nei nostri territori territori che sono stati martoriati da eh da alluvioni che vengono amplificate dall'utilizzo spropositato del eh del cemento lo vediamo quotidianamente con i livelli di PM10 elevatissimi ma perché parliamo anche di migrazioni perché quando i territori vengono distrutti quando i territori non sono più vivibili porteranno anche a un a uno spostamento della della popolazione perché non potrà più vivere in in quei luoghi non potrà più lavorare non non potrà più vivere pienamente e dignitosamente eh la propria la propria vita è importante anche quindi mobilitarsi perché le mobilitazioni devono non soltanto portare agli onori della cronaca il problema ma devono anche servire come proprio vero e proprio cambiamento di base dei nostri dei nostri stili di vita eh bisogna quindi cambiare i nostri stili di vita quotidiani bisogna eh cambiare i sistemi produttivi bisogna utilizzare delle fonti energetiche diverse delle fonti energetiche rinnovabili e bisogna anche studiare un vero e proprio nuovo modello eh modello ecologico e in concomitanza con Coppo 24 e anche ehm lanciato a livello nazionale dalla dall'assemblea della della val di Susa anche in Italia quindi l'otto dicembre sarà una giornata appunto in cui eh si porterà eh nelle piazze nelle strade il il problema del del cambiamento del cambiamento climatico eh non soltanto in Italia ma in tutto il mondo infatti l'otto ma l'otto dicembre scusate sarà la giornata mondiale per per il cambiamento climatico e in tutto il mondo si scenderà in piazza appunto contro questo questo cambiamento che sta affliggendo il il nostro territorio in previsione della marcia per il clima del l'otto dicembre che si svolgerà qui a Padova ci sono tante iniziative che si svolgeranno in tutto il territorio Veneto da questa sera saranno in presenti qui in Veneto appunto i ehm gli attivisti di Endeghelende che ci verranno a raccontare la loro esperienza di di lotta in Germania e domani mattina venerdì ci sarà una mobilitazione davanti ai cancelli di di Amazon in occasione del del Black Friday una mobilitazione che appunto ehm mira a colpire quel capitalismo sfrenato che ci obbliga all'acquisto a tutti i costi è quel capitalismo che utilizza ancora oggi ehm una un degli strumenti di eh comunicazione appunto antiquati come è il trasporto su gomma eh quindi andremo domani e davanti ai cancelli di Amazon proponendo appunto un un cambiamento anche non soltanto dei nostri stili di vita ma anche in quelli che sono gli stili di vita eh delle delle grandi delle grandi aziende parliamo adesso di Francia eh parliamo di di quella che è stata definita la rivolta dei dei gilet gialli rivolta dei gilet gialli che prende appunto il nome dal dal fatto che queste persone che si hanno iniziato questa mobilitazione indossavano appunto dei dei gilet di color di color giallo doveva essere una semplice tra virgolette manifestazione contro il il caro carburante e invece si è trasformata in una mobilitazione molto importante sono stati più di duemila i blocchi in in tutta la in tutta la Francia e anche c'è stata una moltiplicazione di quelle che sono le rivendicazioni quindi dal eh dalla richiesta dell'appunto della diminuzione del dei prezzi del del carburante si è arrivati anche a delle rivendicazioni eh contro le misure fiscali del del governo queste mobilitazioni sono avvenute soprattutto nelle zone rurali della Francia nelle piccole cittadine ma anche a Parigi ci sono state parecchie manifestazioni e vicino all'Eliseo ci sono stati anche dei duri scontri con eh con la polizia eh ovviamente questa questa rivolta è una rivolta che è partita da una settimana ed è una rivolta che bisogna tutta studiare e analizzare eh dobbiamo cercare di capire appunto quella che è la complessa morfologia di eh di questa di questa protesta a scendere in strada infatti eh è stato un movimento che non non ha nessun leader un movimento che non è portato avanti da strutture partitiche o da sindacati rispetto alle tante lotte che negli ultimi 50 anni ci sono state in Francia soprattutto le lotte antifiscali eh o comunque eh le le varie forme di lotta che si sono eh susseguite nel nel corso degli anni eh lo spontaneismo si inserisce perfettamente e nel negli negli ultimi tre anni di forte opposizione sociale che c'è stata che c'è stata in Francia un'opposizione sociale che è andata avanti contro le politiche del lavoro eh fino ad arrivare alla riforma dei trasporti ma anche in quello che è il mondo della formazione soprattutto dell'università eh è legittimo pensare che eh la rivolta possa offrire questa rivolta possa offrire un fianco all'estrema destra eh che beneficia anche soprattutto di quella retorica sovranista che eh in questi tempi la fa assolutamente eh da padrone anche perché nel corso di queste rivolte ci sono state delle eh delle aggressioni razziste delle aggressioni eh omofobe eh ma di contro quello che si è notato in in questi migliaia di blocchi che ci sono stati per la Francia è un un elemento molto importante ossia che eh non c'è stata per esempio la presenza del del tricolore francese e quindi ehm e si è lontani dall'assumere eh un ruolo egemonico della protesta da parte di eh partiti di partiti sovranisti eh sui social soprattutto si è tanto paragonato questa questa rivolta dei gilet gialli ad una ad una rivolta che c'è stata anche qua in Italia dei la cosiddetta protesta dei forconi soprattutto è una rivolta che è nata nel nel sud Italia ma che poi si è ehm si è propagata in in tutto il territorio nazionale ehm noi qui non vogliamo assolutamente paragonare eh le due le due le due proteste perché sono delle proteste molto diverse eh noi qui in Italia spesso abbiamo detto che questa rivolta dei forconi è stata una rivolta portata avanti da eh partiti di destra o comunque comunque da sindacati eh un fatto tutto italiano è quello che quando qualcosa succede all'estero viene enfatizzata viene portata ad esempio eh come dicevo prima è un un qualcosa una protesta che bisogna analizzare che bisogna studiare per bene eh sabato è stata rilanciata una secondo un secondo momento di mobilitazione ma adesso ci andiamo proprio ad ascoltare delle due testimonianze dalla dalla Francia proprio dalle piazze che ci spiegano meglio il il senso di questa il senso di questa protesta e perché questa protesta continuerà ad andare avanti. Saremo per le strade e faremo capire al governo che siamo stufi di tutto questo che è arrivato il momento di abbassare le nostre tasse aumentare i nostri stipendi e soprattutto di piantarla con le promesse vuote bloccheremo grandi strutture come questo ipermercato dove la gente fa la spesa fa rifornimento di carburante è un gran gettito fiscale prodotto per lo Stato e infatti bloccando questi luoghi blocchiamo anche lo Stato e il denaro che entra nelle casse statali soprattutto sui carburanti ci saranno molte persone qui a Calais contiamo sulle auto ce ne sono circa 160 annunciate ma anche altre ne arriveranno e dunque mettiamo che ci siano 3 4 anche 5 manifestanti per auto credo che solo qui arriveremo a superare i mille partecipanti siamo tornati in studio e torniamo anche nel in Italia questo weekend venerdì sabato e domenica sarà una giornata molto piena per per la città di Roma infatti ci saranno due grosse manifestazioni che si svolgeranno in a Roma appunto venerdì 23 novembre alle ore 15 in in piazza san silvestro diverse realtà di movimento romane hanno convocato una una piazza in in occasione dell'inizio della discussione alla camera del del ddl salvini dopo la grande manifestazione di Roma del 10 novembre appunto si erano lanciate anche dei degli ulteriori momenti di mobilitazione quella del 23 sarà la prima perché appunto il ddl salvini inizia il suo percorso alla alla camera sarà una una grossa mobilitazione in cui si farà sentire che la base del del nostro paese è assolutamente contro questo ddl che più volte ne abbiamo parlato con l'abolizione della protezione umanitaria con la cacciata dei richiedenti asilo dagli sprar anche con i daspo urbani e anche con le misure repressive nei confronti di chi occupa una una casa per esempio è chiaramente una una lotta contro contro gli ultimi in questi giorni ne abbiamo parlato anche all'ultimo tg sherwood sono continuati gli sgomberi di baobab in tutti i posti dove baobab si è spostato per dare accoglienza anche se precaria queste a questi ragazzi che vivono da mesi per le per le strade di roma si sono sempre ritrovati la celere pronti a sgomberarli l'ultimo è venuto qualche giorno fa erano in una piazza per ripararsi dalla pioggia e sono stati sono stati sgomberati questo decreto salvini l'abbiamo più volte detto è in perfetta continuità quello che è il decreto minniti orlando ed è una chiarissima guerra alla povertà e la povertà non ha colore non ha colore di pelle ai migranti ma anche agli attivisti soprattutto i migranti uscendo dalle dinamiche di accoglienza diventeranno fondamentalmente carne da macello per i caporali soprattutto al sud italia e quindi andranno a lavorare in a nero chissà per quali caporali in campagna oppure anche per per la mafia noi non ci stiamo a queste a queste a queste politiche quindi il 23 torneremo in piazza per dire il nostro no al decreto salvini in questi giorni a cavallo della mobilitazione del 10 novembre tante città torino padova bologna hanno sospeso gli effetti del del decreto legge salvini ma noi adesso dobbiamo interrogarci su quello che succederà quando il decreto diventerà come ormai tutti si aspettano legge bisognerà quindi organizzare la disobbedienza e bisognerà capire come disobbedire a questo a questo decreto salvini il 23 sarà il primo momento in cui ribadiremo con forza questo concetto il 24 novembre sabato ci sarà anche la manifestazione contro la violenza sulle donne lanciata da non una di meno manifestazione che quest'anno sarà caratterizzata da quella mobilitazione permanente che ormai da mesi i movimenti femministi ma non solo hanno lanciato contro il disegno di legge pillon un disegno di legge davvero dai contorni medievali un disegno di legge che si cala perfettamente in quelle che sono le le politiche del del governo l'indomani il 25 sempre a roma ci sarà la manifestazione ci sarà l'assemblea di non una di meno che metterà ovviamente in in programma quelli che sono gli ulteriori passi da fare per contrastare questo questo disegno di legge che è davvero retrogado in tutti i propri i propri aspetti di legge Sì Torniamo a parlare di abusi in divisa Ne abbiamo parlato in tutte le puntate del TG Sherwood E dobbiamo riparlarne perché qualche giorno fa la giustizia italiana ha chiuso il caso Magherini L'ex calciatore della Fiorentina che è stato ucciso nel marzo del 2014 durante un arresto da parte dei carabinieri I tre carabinieri che dapprima erano stati condannati per omicidio colposo sono stati tutti e tre assolti La sentenza della Cassazione non tenuto conto delle 14 testimonianze che ci sono state Che raccontano dei ripetuti calci che ci sono stati che sono stati dati al povero Magherini Ne tantomeno non tiene conto di un video che è circolato anche nelle emittenti televisive nazionali Anche a chi l'ha visto in cui si vede appunto Magherini a terra che chiede in maniera vehemente aiuto Addirittura adesso le forze dell'ordine hanno richiesto che questo video non deve più andare in onda Perché si riferisce a dei fatti che non sono più giudicabili La battaglia proseguirà anche in sede internazionale È arrivata la solidarietà da parte di tutte quelle famiglie che hanno subito anche degli abusi Da parte delle forze dell'ordine che hanno anche subito delle grosse perdite Ne abbiamo parlato più volte nell'occasione del TG Sherwood Quello che ci preme dire è che bisogna continuare quindi a portare avanti questa campagna Che vada contro l'impunità delle forze dell'ordine Cosa che invece mira Salvini a portare avanti dal canto suo In questo periodo tra l'altro la repressione per chi porta avanti queste tematiche sta continuando Abbiamo letto nei social di carabinieri che chiedevano i nomi di chi è andato a vedere Per esempio il film di Stefano Cucchi in alcune proiezioni Ma proprio in occasione della sentenza del processo Magherini Degli attivisti di ACAD sono stati trattenuti per più di quattro ore in questura Soltanto perché stavano affliggendo uno striscione di solidarietà a Magherini Torneremo sicuramente a parlare di questa campagna contro gli abusi in divisa Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo E vi lasciamo, visto che le forze dell'ordine hanno detto che non si deve più vedere questo video Con queste immagini molto forti e inequivocabili dell'arresto di Magherini Ciao Ciao Oh, senza siena tica. Aiuto! 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 Non soppaccio non mi ha caso! Siava si... ... 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 Coguto! ... ... Aiuto! Disparro! Disparro! Aiuto! Aiuto! Jau finito! Jau finito! Aiuto! 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 Aiutatemi! Aiuto! Aiuto! Aiuto!